Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Ieri stavo leggendo il libro dei salmi e mi sono soffermato su due salmi in particolare. E da questi due salmi è partita un po' una riflessione che ora vorrei condividere qua su YouTube. È una riflessione sull'aterismo. Prendiamo una Bibbia, io userò questa qua che è la traduzione dei ricciotti della Vulgata. Uso questa e non quella CEI perché la numerazione dei salmi è corretta quella della Vulgata e anche della Bibbia dei 70 che però non ho. Diversamente dalla CEI che usa la numerazione ebraica ma c'è un piccolo errore nella loro numerazione. Andando al Salmo 13, che sarebbe il 14, sulla versione CEI ed ebraica, leggiamo i primi due versetti, anzi anche il terzo. Lo stolto dice in cuor suo e Dio non c'è. Si sono corrotti gli uomini e resi abominevoli per la loro condotta. Non c'è chi faccia il bene, non ce n'è neppure uno. Il Signore dal cielo guarda sui figlioli degli uomini per vedere se c'è ancora un savio e qualcuno che cerchi Dio. Tutti hanno furviato. Si sono insieme corrotti. Non ce n'è chi faccia il bene, non ce n'è neppure uno. E su queste parole vorrei far partire una piccola riflessione. Anzi, prima leggiamoci anche l'altro Salmo che è il 27, 28 nella Bibbia CEI. E qua quello che mi interessa è il versetto 3. Non mi trascinare via coi malfattori e con gli operatori di inquietà non mi mandare govina, i quali parlano di pace al loro prossimo e malizia invece è nel loro cuore. Partiamo da qua. Quali sono, o meglio, chi sono questi malfattori che parlano di pace ma invece nel loro cuore c'è malizia? Queste persone, diciamo, sono liati a livello umanistico. L'ateismo è stato analizzato da vari filosofi, vorrei citarne solo rapidamente tre, che sono Platone, secondo il cui l'ateismo è un cancro sociale contro la bontà dello Stato. Poi si va al rinascimento a Tommaso Moro, o Thomas Moore come era il suo nome originale, in quanto nella sua utopia, dove tutti potevano professare qualsiasi religione, tutti potevano professarla e cercare di convertire gli altri, l'unica cosa che non poteva essere condivisa, in quanto ritenuta pericolosa, era qualsiasi teoria che negasse l'immortalità dell'anima. Similmente a Moro, anche Tommaso Campanella, l'autore della Città del Sole, e anche di un altro testo che si chiamava L'ateismo sconfitto, parte dal presupposto che la religione naturale più corretta, più giusta, è il cristianessimo, al cui è aggiunto solo i sacramenti da questa religione naturale, che sarebbe quella corretta dell'umanità. Perché questi filosofi parlavano così violentemente contro l'ateismo? Perché di base l'ateismo porta all'edonismo, al relativismo, e a fare cose per se stessi, diciamo, per il proprio bene, e basta così, cioè non hanno un fine più grande. E qui ci porta al versetto 3 del Salmo 27, partendo da questi presupposti. Io per quelli che parlano di pace, ma invece hanno malizia. I due principali, diciamo anche per andare a un tema filosofico più recente, sono Marx, e basta guardare non tutta la sua teoria, ma la rivolta proletaria. Che cos'è la rivolta proletaria? Facciamola breve. Praticamente il proletariato deve fare questa rivolta contro quelli che l'opprimono, contro i potenti, che sono di base, chi detiene il lavoro, ma anche qualsiasi forma di autorità, e questa rivolta va fatta con qualsiasi mezzo, in qualsiasi modo. Ed è praticamente il presupposto di una guerra civile. In poche parole, per Marx, che parla di pace, di giustizia sociale, eccetera, bisogna per forza fare una guerra civile e sterminare tutti quelli che non sono proletari. Similmente a Marx, un po' meno noto, e qui vorrei leggervelo testualmente, ma la testa con la sua anarchia. Non lo leggiamo tutto, leggiamo soltanto il programma. Adesso devo ritrovarlo all'indice. E ci sono sette punti. Ecco, allora. Ci sono alcune cose molto interessanti. Allora, vediamo. Abolizione della proprietà privata e delle materie prime degli strumenti di lavoro, perché nessuno abbia mezzo di vivere sfruttando il lavoro altrui, e ci siamo. Abolizione del governo e di ogni potere, che faccia la legge e la imponga ad altri, quindi abolizione di monarchia, repubblica, parlamenti, esserciti, perché siamo in un'anarchia. Il punto 3 è interessante. Organizzazione della vita sociale per opere di libera associazione e federazione di produttori e di consumatori. Fatte e modificate secondo la volontà dei componenti, guidati dalla scienza e dalle esperienze, liberi da ogni imposizione, che non derivi dalla necessità naturale, che ogni ruolo, vinto dal sentimento stesso e dalla necessità ineluttabile, volontariamente si sottomette. Poi, garanti i mezzi di vita, di sviluppo, di preessere, di fanciulli, e da tutti coloro che sono impotenti a provvedere a loro stessi. E qua, diciamo, sono cose che si possono condividere. Poi abbiamo guerra alle religioni a tutte le menzogne, anche se si nascondono sotto il manto della scienza, situazione scientifica per tutti fino ai suoi gradi prelevati, guerra al patriotismo, abolizione delle frontiere, ricostruzione della famiglia, in quel modo che risulterà la pratica dell'amore libero, da ogni vincolo legale, da ogni oppressione economico, offriscono ad ogni pregiudizio religioso. Prima di questi sette punti, c'era questa introduzione, che è giusto leggere alla fine, dove dice chiaramente, perché questi mali derivano dalla ricerca del violento che è fatta da ciascuno per conto suo e contro tutti, noi vogliamo rimediarvi sostituendo all'odio l'amore, alla concorrenza, alla solidarietà, alla ricerca del proprionesso e alla cooperazione e dall'imposizione della libertà, alla menzogna religiosa e pseudoscientifica la verità. Sottolineiamo questa cosa importante, sostituire all'odio l'amore e poi fare guerra alle religioni e guerra al patriotismo. E questo è esattamente quello che è scritto nel Salmo 27, versetto 3. Vediamo qui. I quali parlano di pace al loro prossimo, i malizi invece è nei loro cuori. Questo è, diciamo, in sostanza, l'ateismo a livello umanistico. Per l'ateismo a livello scientifico, di cui si torna al Salmo precedente, il 13, che dice questo versetto sempre, il 3, che, ah, sì, non c'è chi faccia il bene, non ce n'è neppure uno. Perché c'è scritto questo? Dobbiamo partire da un presupposto, che cos'è la scienza moderna. La scienza moderna ce l'ha spiegata molto bene, anche se non è un autore religioso, Teodor Kaczynski. E vi volevo leggere anche qui alcune cose che ci aiuteranno a capire questa riflessione che voglio fare. Allora, che cos'è il processo di potere? C'è un po' di introduzione. Ecco qui, il punto 33. Gli esseri umani mostrano un bisogno probabilmente biologico per qualcosa che noi chiameremo il processo del potere. Cioè qualcosa di assai prossimo all'abrama di potere, dal suo canto ampiamente riconosciuta. Ma non è chiaramente la stessa cosa. Il processo del potere costa di quattro elementi. I tre più chiaramente identificabili sono lo scopo, lo sforzo e il raggiungimento dell'obiettivo. E qui mi fermo, perché mi serviva questo. Poi, dopo il processo di potere, c'è l'attività sostitutiva. Leggiamo il punto 39. Utilizziamo in questa sede l'espressione attività sostitutiva per definire un'attività svolta al conseguimento di un traguardo artificiale che una persona può imporre a se stessa al solo fine di avere un obiettivo per cui lavorare oppure, per così dire, per godere del mero senso di appagamento scaduto dall'aver raggiunto quel dato obiettivo. Con questi due presupposti andiamo a vedere cosa diceva sempre Kaczynski sulla scienza. Allora, ed è molto interessante. Punto 87, leggiamo giusto l'inizio. La scienza e la tecnologia forniscono alcuni fra i più importanti esempi di attività sostitutive. Alcuni scienziati affermano di essere spinti dalla curiosità o dal desiderio di far bene all'umanità. Ma è facile constatare come nulla di ciò abbia a che vedere con la ragione principale che spinge la maggior parte degli scienziati a progredire nel proprio lavoro. Quanto alla curiosità, è assurdo anche solo pensarlo. Poi proseguiamo al punto 89 anche analoghe considerazioni possono farsi sugli scienziati in generale. Con possibili manare eccezioni quanto li muovi non è la curiosità nel desiderio di far bene all'umanità bensì nella città di ognuno di addempiere al proprio processo di potere. Avere un obiettivo, un problema scientifico da risolvere compiere con uno sforzo, la ricerca scientifica e raggiungere l'obiettivo, soluzione del problema. La scienza è un'attività sostituitiva. E ci siamo. E il punto ultimo, il 92 Perciò seguita la scienza a marciare cieca e sorda, senza alcun riguardo per il reale benessere del ragazzo umano o per qualsivoglia altro criterio obbediente soltanto alle esigenze psicologiche degli scienziati come anche degli ufficiali governativi e dei manager d'azienda che funzionano le loro ricerche. Cosa ci vuole dire Kaczynski che ha a che fare con il Salmo anche se Kaczynski è rateo? Praticamente la scienza è una cosa fine a se stessa. Prendiamo per esempio le missioni spaziali. A me che la Luna sia fatta con gli stessi sassi di cui è fatta la Terra non è che mi cambia la vita, non è che mi aiuta a fare qualcosa. pensiamo invece a quanti miliardi sono stati spesi per le varie missioni per arrivare sulla Luna comprese quelle fallite quante no, sia anche lì miliardi di tonnellate di carburante sprecato per lanciare dei razzi nonostante ci sia la crisi energetica e nonostante ci sia la fame nonostante ci sia le guerre però i soldi per le guerre li hanno trovati ma a quanto pare i soldi per aiutare le persone in Africa aiutare i migranti ancora no e praticamente questo è l'ateismo della scienza quelli che non fanno mal non fanno alcun bene sempre come dice il Salmo gli uomini si sono corrotti e resti abominevoli per la loro condotta e questa è la condotta abominevole anche se non sempre sempre come me ma pensiamo un attimo a tutte quelle risorse come ho già detto sprecate per ricerche scientifiche che non mi cambiano in nessun modo la vita e non mi aiutano in nessun modo a vivere specie l'astronomia la fisica teorica anche proprio dei grandissimi problemi però nelle pubblicità che non ho a noi di fare la carità con le varie organizzioni di Caritas e anche qui la risposta c'è nelle religioni volevo portare qua come esempio il Corano perché la gente il Corano magari lo snobba ma qua c'è una soluzione bellissima chiara come il sole al problema della povertà ai problemi dei migranti e a tutti i vari problemi che se si usassero i soldi che si sprecano per queste ricerche scientifiche che sono appunto attività sostitutive sarebbero risolti andiamo all'appendice 3 la decima zakat che probabilmente ho pronunciato male perché non so l'arabo leggiamo giusto l'inizio la decima il terzo pilastro dell'islam si tratta di un'ermosina obbligatoria prelevata sul capitale non sul reddito il radicale zgt non so non ho la mia idea di come si pronunci di cui deriva il termine implica un concetto di purificazione infatti la zakat è la purificazione dei beni viene versato una volta all'anno nelle mani dei percettori nominali a tal fine ed è destinata a otto categorie di persone ben identificate dal versetto 60 sulla nono del Corano e leggiamo questo versetto le elemosine sono per i bisognosi per i poveri per quelli incaricati di raccoglierle per quelli di cui bisogna conquistarsi i cuori per il riscatto degli schiavi per quelli pesantemente indebitati per la lotta sul sentiero di Allah e per il viandante decreto di Allah Allah è saggio sapiente da cui si evince chiaramente da questo versetto adesso togliamo gli schiavi perché gli schiavi non ci sono più però le elemosine obbligatorie per i bisognosi per i poveri e per i viandanti che sarebbero quelli senza casa e per quelli pesantemente indebitati prelevando un decimo obbligatorio sul cioè sul vendito mi pare devo ricontrollare un momento sul capitale non so su tutto quello che uno possiede risolvere praticamente la povertà mondiale in due anni cioè pensate ai miliardi che hanno le società sportive i grandi imprenditori le multinazionali cioè seriamente pensate un decimo di tutte queste ricchezze dato ai bisognosi i poveri anche qui la religione dà soluzioni e l'ateismo non ne produce per finire di questo mio video su queste mie riflessioni che ho fatto fra religioni religioni varie e testi di filosofia volevo chiudere con una bellissima riflessione sul Tao Te Ching di Lausì capitolo 68 e leggiamolo insieme un buon generale non mostra il suo potere un buon combattente non è collerico un buon conquistatore non attacca il popolo un buon capo si sottometta lì sotto dei suoi sottoposti questa è la virtù del non contendere questa è la capacità di utilizzare la forza degli altri questa è la perfetta emulazione del cielo facendo una forzatura che non è proprio attivente al testo ma mi serve per farvi capire a conclusione di questo discorso come la sapienza quella umanistica quella votata alla ricerca di un qualcosa di trascendente sia alla fine derivante da un'unica fonte pensiamo un buon capo che si sottomette al di sotto dei suoi sottoposti come un dio che si fa uomo per servire per salvare tutti anziché salvare se stesso e si fa crocifiggere dicendoci oltre i vari insegnamenti di seguire la sua via che è la perfetta emulazione del cielo con queste parole desidero concludere il video arrivederci grazie a tutti